Questo punto vale molto per un Sersale ridotto ma virtuoso opera della necessità. 4-3-1-2 mutato nel secondo tempo per Saladino con Nesticò migliore in campo e Cristaudo avanti. 4-3-3 per Gregorace che ripropone forze giovani sugli esterni. Gara dei numeri 1, quelli tra i pali, in cattedra però sale Ramunno che para il penalty azzurro. E gara dei volitivi, Maceri e Torchia in campo con la fasciatura alla testa probabilmente necessiteranno di punti. Al direttore Avolio non sfugge nulla persino nelle panchine. La cronaca inizia già al quinto minuto con Alfieri che mette verso la porta una bella palla. Al nono risponde Maceri per lo scalea che conquista la sfera contesa ma indirezzata a lui e si porta al cross tiro. Al venticinquesimo minuto c'è Curcio sulla bandierina e Angotti di testa manda alto. Al trentaduesimo ancora Maceri appunto in campo dopo il colpo alla testa confeziona per Barbu un bel cross e lo manda tu per tu con Parrottino. Al quarantesimo c'è l'intervento sul calcio d'angolo di Galo Capomaggio e ancora Castellano conclude sulla nuova ripresa di gioco sempre dalla bandierina. Al quarantaseiesimo Angotti avviato da Castellano. Al quarantasettesimo Maceri invece richiama in causa Parrottino. Andiamo alla ripresa dopo qualche cambio e qualche altro in corso. Al settimo Angotti invece è invitato su calcio di punizione da Curcio stacco maestro per l'attaccante dello scalea e palla schiacciata. Al quattordicesimo è calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto c'è Zurlo si ripete nel tempo Ramonno parando. Al diciottesimo fare i puntati per Scalise, la sua esperienza e coordinazione in rovesciata verso lo specchio della porta difesa da Kecoramun. Al diciannovesimo risponde per lo scalea Bertini che manca sotto porta il tapin della gara. Anche Castellano invita Parrottino ad abbracciare la sfera e poi c'è il finale tutto al cardiopalma. Al quarantaseiesimo ancora Parrottino all'azione perché Angotti lo mette alla prova. Alla fine sono proprio i due estremi difensori a mandare in pausa lo spettacolo dopo le ultime performance.